Fino ad ora, l'unica pala d'altare conosciuta che raffigurasse l'effigie della Beata Michelina, terziaria francescana protettrice della città di Pesero, si trovava ai Musei Vaticani. Fu realizzata nel 600 dal grande pittore urbinato Federico Barocci e dal 1820 è custodita in Vaticano. Ora però è spuntata un'inedita pala d'altare riconducibile alla stessa bottega del Barocci. Si trovava all'interno di una collezione privata di un castello del Chianti e ora, grazie alla disponibilità dei proprietari, Pesero può accoglierla a Palazzo Ciacchi grazie al Comitato Cultura della Confindustria Pesarese per consegnarla ad uno studio scientifico coordinato da Luca Baroni. Due colleghi storici dell'arte di Venezia mi segnalano la presenza di questa Beata Michelina da Pesero nella soffitta di un castello in Toscana. Sembrava troppo bello per essere vero quindi all'inizio non ci ho creduto, poi mi hanno mandato una fotografia di questo affare alto due metri e mezzo, ho detto beh forse vale la pena fare un viaggio fino in Chianti e andare a vedere di cosa si tratta. Più che un ritrovamento si è stato trattato di un graduale avvicinamento perché il quadro aveva bisogno di essere restaurato quindi ci sono stati anni di lavoro e di ricerca prima di arrivare al punto a cui siamo oggi che ancora è un punto come dire non definitivo perché adesso abbiamo il quadro, l'abbiamo a Pesero, l'abbiamo restaurato, abbiamo la possibilità di studiarlo, capire di cosa si tratta, chi l'ha fatto, i lavori sono ancora in corso. Per noi è stato molto importante però che il lavoro di ricerca e soprattutto di restauro di quest'opera così connessa alla storia di Pesero non venisse fatto in Toscana o a Venezia o all'estero ma venisse qui. Abbiamo lavorato per riportare a Pesero un'immagine così importante per la storia della città che è anche un po' un modo di risercire Pesero dell'assenza di fatto della figura di una delle sue beate più venerate perché il dipinto originale di Federico Barocci oggi si trova in Musei Vaticani, viene involato dai francesi alla fine del Settecento durante le guerre napoleoniche e allora il ritorno di questa immagine così venerata a Pesero sembrava un'occasione simbolica da non farsi scappare sicuramente. La tela fu rintracciata nel 2022 e sottoposta a restauro ad Urbino dalla ditta Isidoro e Matteo Bacchiocca già da anni attiva sulle opere di Barocci. Ora l'opera si apre ad un percorso espositivo dopo essere stata svelata oggi nella sede di Confindustria alla presenza dei vertici dell'Associazione Provinciale e del suo Comitato Cultura e del confronto con gli studiosi Luigi Gallo e Anna Maria Ambrosini Massari attivatisi nel comprendere la connessione con il dipinto dei Musei Vaticani. Il dipinto del Vaticano che è l'originale documentato noto e pubblicato ha gravi problematiche conservative nel senso che è stato molto rovinato dal tempo e quindi vediamo in questo dipinto alle mie spalle più cose di quanto non ne vediamo nell'originale Vaticano. Al momento, ma qui mi sto ancora confrontando con i colleghi, con il direttore Gallo, con la professoressa Ambrosini, con il professor Ferretti, riteniamo al meglio delle nostre conoscenze attuali e degli studi ancora in corso che questa sia un'opera concepita all'interno della bottega di Federico Barocci, probabilmente eseguita per una commissione da parte di un privato e che si tratti di un oggetto particolarmente utile per capire cosa succedeva all'interno di questa bottega baroccesca. Ci sono una serie di tracce documentarie, però anche qui la ricerca è ancora work in progress, che suggeriscono che questo dipinto sia quello che poi viene utilizzato nel Settecento per convalidare a Roma il processo di beatificazione della Beata Michelina che viene portato avanti dal Cardinal Fabio Olivieri, quindi un membro della grande famiglia Olivieri che poi si estingue con Annibale degli Abati Olivieri, altro cittadino di Pesero benemerito perché fonda la nota biblioteca oliveriana. Se il quadro fosse effettivamente quello avremmo veramente un pezzo di storia di Pesero non solo per l'importanza storico-artistica, quindi per l'opera di Federico Barocci, ma anche per la storia della città e della sua devozione alla Santa e alla Beata Michelina.